Buonasera, ben ritrovati in diretta su Rete Veneta ed è il solito programma del sabato, delle 21 e 20 del sabato sul referendum per l'autonomia del 22 ottobre che poi viene replicato la domenica alle 15 e 30, vogliamo che tutti possano avere gli elementi per andare a votare con cognizione di causa, sapere di che referendum si tratti, di quelli che sono gli obiettivi, quelli che possono essere secondo alcuni i vantaggi, secondo altri gli svantaggi, sì, no, la stensione, per farvi un quadro completo, siamo già alla decima puntata, andremo avanti fino al giorno, al giovedì che precede le elezioni, perché poi c'è la giornata del silenzio elettorale. Allora, stasera è un ritorno per chi aveva già partecipato a questo programma e lo ringrazio molto, Graziano Azzalin, consigliere regionale del Partito Democratico. Buonasera, grazie direttore, grazie dell'invito. Grazie a lei, grazie a lei. Allora, intanto diciamo subito che lei rappresenta la posizione del no e della stensione, no? E che intanto è partita la campagna elettorale, ormai siamo nella bufera o no? Ma diciamo che iniziati in queste ore, sostanzialmente fino adesso, non mi pare di aver visto grandi grandi acuti, insomma, grandi interessi, soprattutto questa dimostrazione del fatto che non è poi così sentito, insomma, questo referendum. Ecco, che riscontri avete voi, diciamo, del fronte del no rispetto proprio alla percezione? Trovo che, contrariamente all'esagerazione, alle iperbole usate anche dal Presidente Zaia su questa data storica, addirittura questa data costituente, cioè un referendum che è stato definito costituente, che è una cosa che non ha nessuna giustificazione né sul piano giuridico né storico, ma neanche politico, insomma, non ha fatto nulla di costituente, perché qui siamo di fronte a un referendum consultivo, consultivo. E quindi è così che bisogna ragionare, però quello che io volevo dire in premessa anche di questo incontro, in avvio, diciamo, di campagna elettorale, come diceva, è proprio l'amarezza che riscontro nel vedere come questa sia partita sotto le peggiori insegne. Abbiamo avuto un prologo che è stato un innalzamento, un inesprimento dei toni, soprattutto dei rapporti con lo Stato, dopo aver varato due leggi, quelle delle bandiere in particolare, ma dopo la polemica che c'è stata anche in particolare del Presidente Zaia sui vaccini, è dovuto fare retromarcia e queste posizioni, sia la legge varata sulle bandiere, con l'obbligo, voglio dire, di farle esporre alle prefetture, pena una sanzione, una cosa assurda che non trova nessuno riscontro anche qua, proprio per creare un conflitto e anche questa opposizione ai vaccini, quando è universalmente riconosciuto sul piano scientifico che occorre vaccinare per impedire delle epidemie e che la gente sia male, il contrapporsi a Roma solamente per alzare il tono, per alimentare la tensione identitaria in questa campagna elettorale, non fa che altro che peggiorare il clima e soprattutto spostare su un piano meramente propagandistico quello che invece qualcuno auspicava, invece fosse necessario un confronto. Se poi pensiamo che l'esordio del Presidente è stato quello di dire che nessuno, lui prima di parlare con qualcuno vuole vedere il timbro sulla scheda, questo non è un bel inizio, probabilmente è uno svarione da parte del Presidente o si è dimenticato, intanto non c'è nessun timbro sulle schede e quindi voglio dire, se nessuno ha il timbro sulla scheda, cosa facciamo? Che nessuno può più andare a parlare con il Presidente della Regione? Ecco, io credo che questo non sia corretto, non sia il modo giusto di approfondire, di affrontare questioni anche importanti, purtroppo siamo in una campagna elettorale, una campagna elettorale che poteva essere evitata, perché Zaia il mandato ce l'aveva già da parte della maggioranza dei cittadini veneti, doveva aprire una trattativa, evitare di perdere tempo e quindi probabilmente a questo punto saremo già in una fase avanzata di trattativa con lo Stato, è inutile ribadire, ma non ci hanno mai ascoltato in questi 16 anni, c'è stato un periodo dove Zaia era addirittura Ministro, che era pendente una richiesta da parte della Regione per una trattativa sulle materie per avere in base alla legge del 2001 la possibilità di avere delle deleghe per amministrare alcune materie, non è stato dato corso e allora di cosa parliamo? In questi due anni poi si è cambiata strategia perché inizialmente la Lega aveva proposto un referendum sull'indipendenza che è stato cassato subito dalla Corte Costituzionale, poi quello che è sopravvissuto, occorre ricordarlo ai nostri telespettatori, è uno dei 5 quesiti che erano stati proposti e gli altri sono stati sonoramente bocciati perché incompatibili con la Costituzione, quello che è rimasto è semplicemente una dicitura che è presente all'interno della Carta Costituzionale, ma che però non ha nessun effetto perché qua c'è un grande equivoco direttore e che va negli incontri anche che si sono iniziati a fare in questi giorni e in quelli che seguiranno probabilmente nei giorni futuri, si parlerà di risorse, di soldi, come che noi dovessimo discutere e decidere con questo referendum la quantità di risorse che avremmo la possibilità di trattenere in Veneto, non è così, perché su questi quesiti che erano stati presentati alla Corte Costituzionale e che chiedevano di trattenere l'80% delle risorse, sono stati bocciati in base al principio perché questi presupponevano un'alterazione degli equilibri e dei rapporti di solidarietà che devono esistere all'interno del territorio nazionale e quindi non si andrà mai su questo terreno, neanche passasse questo referendum, questo è il grande equivoco e una ragione statuto speciale, mi dispiace per la gente che in buona fede crede in questo, non si otterrà mai attraverso un referendum consultivo perché una ragione statuto speciale deve essere costituita solo attraverso un procedimento costituzionale e quindi questo referendum consultivo da questo punto di vista non ha nessun effetto. Il Governatore insiste sul fatto che non sarà possibile avere l'autonomia il giorno dopo e questo lo ripete sempre il fronte del sì, però poi ci sarebbe un lungo negoziato difficile e complicato che potrebbe portare al Veneto delle competenze che oggi non ha per avere più libertà su vari versanti, compreso quello dell'autonomia fiscale. Sì, allora ripeto, anche qua, cosa vuol dire autonomia? Autonomia significa che alcune materie che oggi gestisce lo Stato possono essere trasferite in capo alle regioni, ma non è che si trasferiscono le risorse per gestire quelle materie e in più altre risorse che fanno parte e sono il prodotto di quel residuo fiscale che oggi in qualche modo viene trattenuto a Roma. Le risorse che verranno trasferite, nel qual caso si raggiungesse un accordo tra lo Stato e la regione e poi venisse approvato dalle Camere attraverso un procedimento legislativo che è fissato dalla Costituzione, le risorse che verrebbero trasferite sono solo quelle che servono per la gestione di quelle materie, non ci sarà un tesoretto in più che potrà essere spalmato su altre questioni, questa è pura propaganda, ma non corrisponde alla realtà, perché non a caso ho voluto sottolineare pochi minuti fa il fatto che i quesiti che andavano a parlare di trattenere le risorse sono stati bocciati dalla Corte, per cui su quel versante non c'è storia, non c'è storia e poi è bene anche fare un po' di chiarezza e anche dire le cose come stanno, nei conti che vengono elencati in maniera dimostrativa dalla Lega, da chi sostiene questo referendum, ci sono delle cifre, a parte che gli invito a mettersi d'accordo un po' sulle cifre, perché per il residuo fiscale una volta parlano di 21 miliardi, una volta di 19, adesso negli opuscoli che hanno diffuso si parla di 15 miliardi, però in questa somma non è calcolato il debito pubblico, ma il debito pubblico non è un qualcosa in capo a qualcun altro tranne che a noi, il debito pubblico è un qualcosa che è in capo a tutti gli italiani, è un qualcosa che è stato prodotto negli anni 80 in particolare prevalentemente e che è il prodotto di una politica generale che prevedeva un'espansione della spesa pubblica oltre i limiti e le possibilità di gestione da parte dello Stato e che ha prodotto i livelli di indebitamento che oggi chiamano tutti gli italiani a dover fare dei sacrifici e a dare delle risposte, non è che uno si può tirar fuori, perché uno dice ma io non c'ero e non l'ho fatto io, smettiamole di ragionare in maniera retrospettiva, perché anche da questo punto di vista sarebbe molto difficile attribuire le responsabilità, ma dobbiamo analizzarlo da un punto di vista prospettico il debito pubblico, oggi abbiamo interesse o no noi veneti a sanare e a fare la nostra parte rispetto al debito pubblico? Abbiamo un interesse capitale, perché se lo Stato dovesse andare in default, chi ci rimette? Ci rimette il proprietario della ricchezza, chi ha i titoli di Stato, la povera gente, i risparmiatori, sarebbe una crisi di una portata enorme oltre quella che stiamo vivendo dal 2008 in qua, quindi anche su queste cose va fatta chiarezza e poi per esempio il federalismo previdenziale, nel Veneto se noi andiamo a calcolare la spesa previdenziale da parte dello Stato, lo Stato paga 6 miliardi in più rispetto a quelli che versano i contribuenti e quindi questo è chi li paga, perché in Veneto sono andati in pensione più persone rispetto e abbiamo oggi un deficit da questo punto di vista come c'è in quasi tutte le regioni, quindi se vogliamo proprio una ripartizione dei conti e dei costi, bisogna tener conto di queste cose, non possiamo tenerci quello che ci interessa e quello che non ci interessa magari lo lasciamo ad altri, non è così, tant'è che non c'è una fonte unica, universalmente riconosciuta anche sul piano legislativo che sancisce le modalità e come si calcola il residuo fiscale, non c'è, quindi voglio dire i riferimenti che sono stati usati da parte della Lega nell'arrivare a determinare quel residuo fiscale sono molto opinabili, perché fanno riferimento ai costi territoriali che vengono sostenuti in un determinato territorio e allora si prendono quelli a riferimento, ma il residuo fiscale è il risultante tra quello che si paga e quello che i cittadini ricevono in termini di servizi, ecco perché è improprio quelle cifre e non hanno rispondenza con i dati reali, quindi bisognerebbe mettersi d'accordo, sono ancora qui in attesa che mi si risponda a una interrogazione che ho fatto mesi fa, su quale fonti e in base a che cosa sono stati fatti quei conti, perché avevo visto che ogni mese si cambiava cifra e quindi non capivo in base a che cosa queste cifre venivano determinate, sono ancora a qualche aspetto una risposta da parte della Giunta, adesso noto che negli opuscoli di propaganda che sostengono il sì è ricomparso la cifra di 15 miliardi, ma senza spiegare esattamente come questi 15 miliardi nascono, allora mi sono permesso di andare a fondo di questa cifra, abbiamo fatto come Partito Democratico anche uno studio incaricando dei 200 universitari rispetto a questo e c'è stato prodotto tutt'altra cifra, noi oggi riceviamo quasi come la provincia di Bozzano rispetto a quello che versiamo. Quindi mi pare di aver sentito l'80% del residuo fiscale che rimane, secondo voi rimane sul territorio? Perché nei conti, direttore, bisogna aggiungere la quota parte che come Veneto dobbiamo corrispondere per il famoso debito pubblico che io prima le ho spiegato, ma anche questa storia del federalismo previdenziale, del debito previdenziale che noi abbiamo e quindi non possiamo dire no queste cose le pagherà qualcun altro, se noi dovessimo fare un conto e portarci a casa gli onori, dobbiamo portarci a casa anche gli oneri che ci competono, ecco quindi perché? Ma perché c'è un motivo molto semplice, qua non siamo di fronte a una partita a carte, c'è un motivo molto semplice perché noi abbiamo un sistema fiscale progressivo, chi più ha più paga, perché qua non si capisce una cosa, che il cittadino che ha poco in Veneto se viene tolto questa solidarietà non è che lui ci guadagna, non è che ci guadagna e quindi anche questa vulgata che non sono state messe le mani in tasca ai cittadini veneti e che Zaia dice siamo l'unica regione che ha fatto, ma io non lo reputo una cosa granché positiva, sa direttore, perché bisogna entrare nel merito di queste affermazioni, intanto bisogna capire che non tutte le tasche dei veneti sono uguali, perché in qualche tasca probabilmente c'è un qualcosa e in qualche tasca non c'è nulla e quindi se noi avessimo dovuto far pagare un qualcosa, per esempio in termini di addizionale IRPEF a chi ha un reddito diciamo sopra i 70-80 mila Euro, avremmo fatto un'ingiustizia, ci sarebbe una iniquità all'interno della regione delle contribuzioni? No, tant'è che anche in regioni dirette dallo stesso partito che abbiamo in Veneto, la Lega come in Lombardia per esempio, c'è un addizionale IRPEF che va ad intaccare le fasce alte di reddito, questo ha permesso a quella regione di poter usufruire di maggiori risorse, invece nel Veneto si è fatta una scelta autolesionista e si è girata in propaganda questa scelta che è una scelta fortemente iniqua, che alla fine ha creato dei problemi, perché oggi noi spendiamo 14 milioni per questo referendum, però vuole sapere nel bilancio di quest'anno per esempio, cito due cifre solamente per dare l'idea di come si potevano risolvere tanti problemi, l'anno scorso avevamo 13 milioni per la manutenzione delle strade, quest'anno abbiamo 0 Euro, rispetto all'anno scorso è stato tagliato quasi un quarto dei soldi per le scuole materne e private, ben 11 milioni di Euro. Però la Giunta attribuisce questi tagli al governo, allo Stato. Ho capito, ma allora se lo Stato ha ridotto i trasferimenti o c'è una contrazione delle disponibilità, intanto non ci sono solo per il Veneto, ma ci sono per tutta Italia, perché la crisi e le problematiche che viviamo non sono qualcosa che riguarda solo il Veneto, ma riguardano tutti, ma allora a maggior ragione se noi oggi abbiamo problemi di carattere finanziario di questo livello, di questa entità avremmo dovuto anche realizzare dell'economia anche su queste cifre, perché voglio dire una delle cose che più fa arrabbiare rispetto a questo referendum è perché siamo di fronte a un risultato che sarà scontato, sostanzialmente pleonastico, tutti dicono che chi va a votare, è evidente, vuoi bene alla mamma, chi vuoi che risponda di no, è evidente che tutti diranno di sì, è un maxi sondaggio, ma allora abbiamo un risultato scontato, la gente è in dubbio che vuole più autonomia, allora perché spendiamo 14 milioni per farci dire quello che già sappiamo, ma non solo, ma investiamo tante risorse perché non siamo poi convinti che vadano in massa a votare come qualcuno pensa, tant'è che spendiamo e io su questo ho fatto anche un esposto alla Corte dei Conti perché c'è una sproporzione tra costi e benefici, perché i soldi pubblici devono avere sempre anche un equilibrio da questo punto di vista, quindi a maggior ragione si dovevano risparmiare questi soldi e non spenderli. Senta Zalini, al di là di tutto, delle posizioni, però perché un referendum costa 14 milioni di Euro? Perché questa è una cifra, è una costante per il referendum come anche per quello, devo dire, mi pare che costasse lo stesso il referendum costituzionale dove si votava peraltro in tutta Italia, perché 14 milioni? Che costi sono? I costi prevalentemente sono i costi degli uffici elettorali, dei seggi, del personale, poi la parte relativa alle schede, relativa al materiale e anche di minorità, si poteva risparmiare evitando per esempio, potevano risparmiare evitando anche di spendere solo un milione e due di pubblicità incredibile, voglio dire, mandando gli aerei, una pubblicità spropositata che non ha ragione, perché quando c'è una crisi, quando si vanno alle elezioni comunali, le risulta che i comuni fanno una pubblicità a carico del contribuente per invitare la gente ad andare a votare come si sta facendo con il referendum, no, i comuni fanno la comunicazione prevista dalla legge istituzionale attraverso la convocazione dei commissi elettorali, attraverso la pubblicazione nei tabelloni elettorali della data delle elezioni e quant'altro, attraverso queste forme e modalità, la Regione Veneto invece proprio perché è un referendum politico e non è un referendum che ha una valenza istituzionale vera che decide un qualcosa, perché l'altra cosa su cui vale la pena ragionare è questa vulgata, ma il voto è un fatto di democrazia, il popolo va rispettato, certo che va rispettato, ma io lo rispetto il popolo e penso che il voto sia l'espressione più alta di democrazia che abbiamo nel nostro paese e non solo nel nostro paese, ma proprio perché ha valore la partecipazione democratica, cosa intendiamo per partecipazione? Chi va a votare deve sapere cosa decide, perché un voto fino a se stesso che non decide nulla non solo è frustrante, ma è una presa in giro, probabilmente oggi la gente è stufa di presa in giro e quindi bisogna che sappia con il suo voto cosa determina, una delle cose che si discute a livello parlamentare, a livello nazionale, politico a proposito della eterna riforma elettorale che non vede mai il varo, è quella di bisogna essere in grado di avere una legge elettorale che alla sera, terminate le votazioni, si sa chi vince, chi perde, la gente deve sapere chi governa e determinare con il suo voto quella scelta, bene, noi con il voto del 22 ottobre non determiniamo nessuna scelta, perché dopo il 22 ottobre non cambia assolutamente nulla, bisognerà sedersi un tavolo tra la regione e il governo, avviare un iter, ragionare nel merito, dopo trovato un accordo, si presenta una legge alle Camere e solo con l'approvazione della maggioranza assoluta delle Camere si otterrà quell'autonomia stabilita sulla base dell'accordo che è stato conseguito, allora cosa serve spendere 14 milioni in questo modo? Perché uno dice ha più potere contrattuale, ma cosa vuol dire il potere contrattuale? Ce l'hai già il potere contrattuale, non giochiamo con le cose, la realtà è un'altra, è politica, proprio perché c'è questa trasformazione di un referendum in una grossa iniziativa politica di partito, chiamiamola come va detta, usando le istituzioni, si è girato, si è utilizzato questo referendum perché all'indomani diciamo dell'insediamento della seconda giunta a Zaia si è iniziato a dire non abbiamo soldi, bisogna avere l'autonomia e su qualsiasi cosa la regione si reputa incapace di dare delle risposte e invoca l'autonomia e quindi demanda tutto un domani quando avrà l'autonomia, ma se tutti facessero così direttore, se tutte le regioni e ne avrebbero ben diritto di fare lo stesso ragionamento, come vivrebbe lo Stato, come si combinerebbe? Perché fino a qualche mese fa non era tanto questo in discussione, in discussione c'era il fatto che in Italia ci sono delle regioni in statuto speciale e che probabilmente alcuni privilegi andavano attenuati perché erano contro l'equità tra le regioni, tra i territori, per cui non si spiegava più perché oggi in determinate regioni hanno più possibilità di altre, per cui si ragionava di caso mai era opportuno rivedere queste ragioni statuto speciale, non affidare la specialità a tutte, primo, secondo c'era l'esigenza di una revisione anche dell'assetto istituzionale delle regioni, probabilmente 20 regioni in Italia sono troppe, per tanti motivi, perché rappresentano una decumplicazione di costi, a volte inutile, una ripetizione anche degli stessi costi, insomma che non ha giustificazione, regioni che sono leggermente più grandi di qualche città, se penso all'Abruzzo, il Molise, per cui bisognava andare a una revisione dell'assetto regionalista del nostro paese e probabilmente è giusto e sono anch'io di questo avviso, perché essere contro il referendum non significa essere contro l'autonomia, come qualcuno vuole dire, no, probabilmente entrando nel merito, ragionando sulle materie, era giusto affidare maggiore responsabilità alle regioni che dimostravano attraverso la loro correttezza dei bilanci, le loro capacità amministrative, affidarli delle responsabilità attraverso le procedure che la Costituzione prevede e rendere più efficiente lo Stato, ma questo presupponeva una discussione di merito, entrare nel merito quello che non ha mai voluto fare Zaia, perché non è mai venuto in Consiglio regionale ad approfondire queste questioni? Perché si ha paura a dire, ma beh, vogliamo la delega su tutto, guardi, è una, chiamiamola pure una bizzaria, una contraddizione, ma oggi nella presentazione del libro, Zaia, alla fine del libro si chiedono dei contributi per sostenere la battaglia referendaria, il referendum, etc., ebbene questi contributi se qualcuno intende versarli, li dovrà versare a un istituto bancario milanese, un istituto un po' particolare che fra l'altro anche poco noto sotto un certo profilo, ma io mi domando, noi chiediamo, Zaia chiede, no, tra le deleghe richieste c'è anche il credito e poi io chiedo ai cittadini veneti di versare i loro contributi a sostegno del referendum, una banca lombarda, allora le cose sono due, o non ti fidi più delle banche veneti, dopo i disastri che ci sono stati, o in qualche modo, voglio dire, è meglio, è come minimo una contraddizione rispetto alla richiesta, etc., ecco, questa credo che non sia tanto una bizzarria, ma quanto purtroppo la conferma che anche rispetto a queste cose c'è troppa sufficialità, perché dire voglio gestire tutte le materie come fosse un dato acquisito e indiscusso che noi siamo migliori in assoluto, non è vero, non è vero, perché bisogna approfondire le materie per materie, cosa sta succedendo nella Pedemontana direttore? Cosa sta succedendo nella Pedemontana? Non si è ancora concluso il contratto, qualche mese fa si è venuto in consiglio, Zaia è venuto in consiglio e bisognava deliberare nel giro di pochi minuti la possibilità di dare 300 milioni al concessionario, poi si è detto no, non li vogliamo più perché li ammortizziamo in più bilanci, per cui hanno fatto retromarcia, oggi non hanno ancora chiuso il contratto perché non è stato fatto il closing finanziario da parte dei concessionari, siamo a questi livelli. C'era stata la proposta dell'aumento dell'IRP e poi è ritirata. Esatto, esatto, e il Mose? I cantieri sono fermi. I cantieri sono fermi, ma voglio dire il Mose è un'opera veneta e non si venga a dire che alla fine le responsabilità erano d'altri, quindi qua parliamo di infrastrutture, allora siamo poi così convinti che la gestione delle infrastrutture sia migliore fatta dai veneti che fatta fuori dai veneti, probabilmente voglio dire non siamo né migliori noi e né che probabilmente è migliore Roma, bisogna trovare un giusto equilibrio perché vanno fatte anche delle riforme che consentano di evitare dei saccheggi come ci sono stati e delle opere che non si concludono mai, ma che noi siamo migliori di altri purtroppo non lo possiamo affermare guardando gli esempi che ci sono sotto gli occhi di tutti. Senta, Zaldini, ricordiamo che si vota anche in Lombardia, ci sono differenze anche di approccio e qualcuno dice che lì è più chiaramente un'operazione politica, mentre qui invece viene in qualche modo presentata come un'operazione culturale e di identità, ci sono differenze tra questi gruppi e soprattutto secondo lei andranno di più a votare i Lombardi o andranno di più a votare i veneti, a prescindere dalle posizioni? Ma io credo che alla fine probabilmente andranno a votare un po' più i veneti, vedo questa più una battaglia, proprio perché io le catalogo come delle battaglie politiche di parte, vedo più una Lega Nord, una Lega Veneta più convinta su questa battaglia politica rispetto ai loro colleghi Lombardi, mi sembra che Maroni sia stato un po' trascinato, non si sia voluto far scavalcare da Zaia, tanto più che il quesito stesso è molto diverso, il quesito Lombardo per esempio, non c'è il quorum e poi il quesito Lombardo fa riferimento anche all'unità della Repubblica, riferimento costituzionale in maniera esplicita, per cui anche in Lombardia però ci sarebbe da dire un qualcosa, perché qua si spendono 14 milioni di costi diretti e probabilmente sono altri milioni in più che si devono aggiungere di costi indiretti, perché la gran parte della macchina amministrativa regionale è tutta proiettata sulla gestione del referendum, per cui questi costi che non sono compresi nei 14 vanno aggiunti. In Lombardia si spendono 50 milioni perché addirittura si sono spesi 24 milioni di tablet, perché si decide questo voto mediante il voto elettronico, per cui anche questo mi sembra uno sperpero, anche perché poi lì il controllo, mi sembra che ci sia molta aleatorietà dal punto di vista delle garanzie sul voto, anche da parte nostra, il fatto che la gente non avrà il timbro sulla scheda e la scheda gli serve solo per orientarsi e andare al seggio giusto, dopo che gli sarà lasciata una ricevuta come quando vai a prendere un qualcosa in qualche negozio, non mi sembra proprio il modo ortodosso per sancire l'ufficialità e anche la correttezza del voto. Senta, prima parlavamo delle altre regioni e del fatto che Zai avrebbe potuto fare qualcosa prima lei diceva, senza ricorrere al referendum, però di fatto al di là di quelle che possono essere considerate provocazioni da parte della Lega sulla bandiera o sui vaccini, il tirai molla, il contrasto magari per alzare la tensione, di fatto la sensazione è che lo Stato abbia sempre un po' trascurato questa parte del territorio, parlavamo di regioni, sta di fatto che ci sono regioni che hanno i bilanci in rosso che sperperano risorse e almeno su questo si fa presente che c'è una sostanziale differenza e che un po' di rispetto in più per questa parte del territorio ci vorrebbe, la pressione fiscale è sempre quella… Bisogna vedere fin dove arriva l'inadeguatezza dello Stato rispetto ai problemi che abbiamo come Veneto e fin dove arriva l'incapacità del Veneto di sapersi proporre e difendere questi interessi, probabilmente c'è l'uno ma c'è anche l'altro, ma c'è anche l'altro, guardi oggi Zai ha fatto un libro con le 100 domande, io ieri sera ho partecipato a un dibattito dove alla fine la gente ha fatto, hanno fatto tante domande, tra queste ce n'è una che la riporto, ma perché non riuscite a fare squadra tutti quanti su questi? Anche lei, un signore mi ha detto a Salina in consiglio regionale, rappresenta un partito che in gran parte è contrario e perché non siete riusciti a mettervi d'accordo? Lo dico con rammarico, noi avremmo auspicato che ci fosse stato un percorso in cui si condivideva una piattaforma, ma questo era previsto nella legge che indicava questo referendum, questo abbiamo chiesto al Presidente Zaglia e invece è stata presa una piega che è andata in tutt'altra direzione, rispetto all'apertura che c'è stata del governo di sedersi un tavolo, è stato indetto il referendum sostanzialmente e quindi è stato risposto picche, perché è stato deciso di avere questo potere contrattuale supplettivo oltre al mandato elettorale per poter avviare questa trattativa, senza entrare nel merito, proprio perché noi abbiamo detto che occorre vedere laddove noi siamo migliori o laddove noi abbiamo interesse a gestire determinate materie, perché è quello che stanno facendo anche gli altri, perché poi non si scopre nulla di… in Emilia Romagna hanno definito quattro materie su cui chiederanno l'autonomia al governo. I promotori parlano di uno sgambetto, dello sgambetto dell'Emilia Romagna, in che senso? Perché era evidente, voglio dire, più che sgambetto, perché il Veneto dovrebbe avere l'autonomia, perché il Veneto dovrebbe trattenersi tutti i soldi e questo non lo possono fare l'Emilia Romagna, l'Umbria, il Piemonte, la Toscana, non lo possono fare gli altri, è evidente che questo può in qualche modo avere innescato, non dico di no, un certo meccanismo, ma lo si innescava lo stesso se noi ci si sedeva attorno a un tavolo e con la nostra forza politica di un'unità che andava ricercata tra tutte le forze e il Consiglio regionale poteva essere veramente un qualcosa di massicciamente compatto su questo, no, e trattare con Roma, dopodiché, voglio dire, alcune incrostazioni sicuramente si potevano eliminare, non dico che alcuni magari arrocamenti centralisti hanno in qualche modo danneggiato questa regione nel corso degli anni, ma non possiamo pensare che sia questo il problema che oggi ha il Veneto, perché anche qua parliamo del residuo fiscale e della spesa, noi dobbiamo pensare che l'economia cresce se creiamo lavoro, se favoriamo le industrie, se favoriamo le imprese e quindi favorendo anche la crescita economica e quindi aumentando anche il reddito, cresce l'imposizione fiscale e quindi cresce la possibilità di avere anche risorse, questo è diciamo quello che noi dobbiamo puntare, cioè va rivisto dall'altra parte il ragionamento, ecco perché uno scontro continuo con lo Stato fa male, fa male anche al più intimo degli autonomi, anche al più convinto degli autonomisti. Ecco, ma da parte loro, insomma io riporto anche l'altra parte, cioè Zaia dice sempre ma io non potevo, quando ho provato ad andare a Roma a trattare ho sempre trovato delle porte in faccia, cioè l'atteggiamento di chiusura, di ostracismo, secondo lei c'è o c'è qualcosa? Ostracismo, intanto Zaia non è mai venuto in Consiglio regionale e non c'è mai stata una comunicazione da parte del governo che dicesse noi non diamo seguito alla trattativa e è la richiesta che lo stesso Zaia ha fatto, alla lettera di disponibilità di apertura della trattativa e quindi da parte del Ministro Costa, la risposta è stata l'indizione del referendum, è stato quello di portare in Consiglio regionale una legge che desse la possibilità di indire il referendum a prescindere dall'Election Day, questa è stata la risposta del Veneto, allora l'hanno fatto non ci credevano, bisognava andare al vedo, bisognava avere con sé tutto il Consiglio regionale, tutte le forze politiche convinte, seguire il percorso logico previsto dalla Costituzione e probabilmente si arrivava a capo anche di un qualcosa, evitando di spendere dei soldi, evitando di trasformare una legislatura di fatto in una legislatura elettorale, perché guardi noi non è un mese che parliamo di queste cose, è da quando è iniziata la legislatura che si parla di queste cose, ma il parlare in termini propagandistici e non affrontare i termini reali, non è un beneficio per i cittadini, è un qualcosa di negativo, perché guardi la propaganda che viene diffusa dalla Lega a sostegno del referendum è questa, per esempio, dove si dice perché i prodotti della nostra terra e le nostre tradizioni vanno protetti, ma cosa c'entra questa cosa qua con il referendum? Cosa c'entra? All'interno c'è per la crescita e il futuro delle casalinghe, voglio dire, ma chi pensiamo di prendere in giro? E poi visto che viene messo in prima pagina un agricoltore, vogliamo proprio parlare dei soldi dell'agricoltura? Allora due cose, intanto il PSR che mette a disposizione fino al 2020 1 miliardo 184 milioni, solo il 17% di queste risorse sono del Veneto, 1 miliardo è dello Stato e dell'Unione Europea, per esempio, quindi voglio dire, non è che qua le cose sono inverse, in secondo luogo l'agricoltura, ma le competenze dell'agricoltura sono della regione? Non è che noi possiamo invocare un'autonomia sul campo agricolo e avere chissà quali possibilità, noi già oggi possiamo esercitare tutte le facoltà che vogliamo nel settore agricolo, l'unico riferimento prevalentemente che dobbiamo avere e con il quale abbiamo a che fare è l'Unione Europea casomai, perché oggi è lì che si giocano determinate questioni, tant'è che proprio su quello che sarà il futuro dei fondi strutturali a disposizione, il futuro della PAC, che dovremmo in qualche modo collaborare a redigere, che si giocheranno i destini anche e il ruolo per dare una risposta positiva ai problemi agricoli anche della nostra regione, ma questo con il referendum non c'entra assolutamente nulla, ecco perché sono convinti o si va in giro a dire che si avrà una sorta di tesoretto, più soldi e poi li metteremo anche a soddisfare qualche problema del settore agricolo, non è così, perché se noi avremo da gestire, faccio un esempio, la pubblica istruzione, avremmo i soldi che oggi gestisce lo Stato per la pubblica istruzione, che verranno destinati al Veneto, sarà poi la capacità del Veneto, se è più bravo dello Stato a gestire le scuole, a gestire quelle risorse per la gestione del settore della pubblica istruzione, a determinare delle economie, a determinare in maniera virtuosa delle risorse che può destinare poi altrove, questo credo che possiamo farlo in alcuni settori indubbiamente, ma questo era il percorso che dovevamo fare, non una propaganda continua e affrontare senza entrare nel merito tutti i problemi come noi fossimo i migliori, perché non ci credono neppure loro, non ci credono neppure i proponenti che noi siamo i migliori in assoluto e che comunque noi siamo in grado di risolvere tutti i problemi, perché non è così, i Veneti non sono migliori dei Lombardi, degli Emiliani, dei Toscani, delle cose, ogni regione ha le sue peculiarità, ogni regione deve essere maggiormente responsabilizzata, ma non è detto che spaccando il Paese come di fatto si vuole fare in questo modo, le cose si risolvano, anzi creeremo dei danni, perché oggi la risposta ai problemi che abbiamo da un punto di vista della globalizzazione, perché i problemi oggi hanno una dimensione internazionale e devono giocoforza trovare una loro collocazione all'interno dell'Europa e la responsabilità dei territori e delle regioni deve essere fortemente resa unita e il collante è la nazione di appartenenza, tant'è che anche nei sondaggi che sono stati fatti nei giorni scorsi da un famoso giornale, dice che mette il sentimento di appartenenza alla regione al terzo posto, il primo è lo Stato, il secondo è la propria città e il terzo è la regione, quindi vuole dire che tutto questo sentimento anti-Stato, anti-nazione non c'è, che la gente probabilmente ragiona più di quel che si crede e che sa mettere le cose al posto giusto. Senta Zalin, quando andremo in onda domenica con la replica ci saranno state, almeno fino a prova contraria, i catalani proveranno o avranno già provato a quest'ora a votare per l'indipendenza della Catalogna, sappiamo che Madrid ha fatto sequestrare le schede elettorali, ci sono stati arresti di funzionari, però i catalani andranno alle urne e si teme che ci possano essere gli scontri con la polizia che sta presidiando la città, questo a prescindere da come andranno le cose, queste votazioni in Catalogna che tipo di effetto produrranno? Indubbiamente questa vicenda della Catalogna a me dispiace molto e credo che queste tensioni, questi scontri in qualche modo sarebbero da evitare attraverso l'unica strada che è quella della mediazione, quella del sedersi intorno al tavolo, trovare le condizioni e le soluzioni per una forte autonomia della Catalogna e quindi anche una contrattazione con lo Stato, ma quello che sta succedendo in Catalogna bisogna andare un po' indietro. Allora, primo, erano stati fatti dei provvedimenti anche passati per pochi voti anche nel Parlamento catalano e che prefiguravano che all'indomani del voto nel giro di 48 ore si poteva proclamare l'indipendenza della Catalogna, questo in violazione della Carta Costituzionale spagnola. E quindi ecco da qui l'intervento altrettanto duro da parte del governo spagnolo e quindi a una posizione molto dura, molto netta, è stata contrapposta a una posizione altrettanto dura. Mi pare che anche da parte dell'Unione Europea, ma non solo dell'Unione Europea, ma anche degli osservatori democratici internazionali, ci sia l'invito e l'indicazione ad evitare l'estremizzazione di questo scontro per trovare quelle giuste mediazioni che devono essere trovate. Noi si sta cercando, da questo punto di vista, i proponenti del referendum in particolare stanno cercando di mettere insieme quello che sta succedendo in Catalogna e quello che potrebbe essere il referendum Veneto, non ha nulla da spartire. Sono due cose estremamente diverse. Uno, ho spiegato quel referendum della Catalogna da dove nasce e quali sono i suoi pericoli, non ha nulla a che fare. È evidente che i leghisti del Veneto, i proponenti del referendum Veneto pensano in qualche modo di trarre un vantaggio mettendo insieme le due cose. Non sono mischiabili le due cose, non hanno nulla in comune. Noi oggi purtroppo viviamo una crisi a livello europeo da tempo a seguito dei fenomeni dell'immigrazione, ma anche per le questioni internazionali legate alla crisi economica e quindi rispetto a questo la tendenza anche che va avanti è quella di rinchiudersi e più che quella di cercare attraverso soluzioni di corresponsabilità reciproca di affrontare questi temi. La crisi poi di determinati partiti che erano il governo in particolare nei paesi europei fa sì che la risposta sia difficile quindi ognuno per cercare di evitare di perdere consenso in qualche modo dà spazio a queste forme di populismo che in qualche modo avanzano a livello europeo. Questo credo che sia un errore. Oggi l'Europa deve invece ritrovare in avanti una sua ragione d'essere, superando l'Europa dei burocrati, superando, non deve essere un'Europa che va avanti a livello germano-centrica, tanto per capirci, deve essere un'Europa che responsabilizza i territori, ma all'interno però di una solidarietà vera che viene esercitata all'interno delle singole nazioni. Lei citava prima lo scontro sui vaccini e anche sulla bandiera. Il governo ha impugnato la legge regionale che obbligava gli uffici pubblici ad esporre il gonfalone del Veneto. Tra l'altro si eccepisce… La prefettura. Sì, sulla prefettura, le questure, insomma. Si eccepisce sulla costituzionalità di questa legge perché si dice che violerebbe il principio dell'uguaglianza dell'articolo 5 e della ragionevoluzione dell'articolo 3, quindi vedremo poi la consulta cosa deciderà. Però io mi chiedo, vale la pena scontrarsi su una bandiera che tutto sommato rappresenta il territorio? Io francamente, anzi noi abbiamo anche invitato i prefetti quest'ora a dire vabbè, ma insomma emettiamo la bandiera del Veneto tra quella italiana e quella europea senza intaccare il valore delle altre due, no? Non sono questioni un po' di lana caprina? Guardi, allora, quando è stata presentata, io ero correlatore di minoranza rispetto a questa legge presentata dalla collega Rizzotto a nome della maggioranza e quando è stato presentato questo emendamento, che parlava delle bandiere diciamo nelle prefetture eccetera, espressamente voluto da Zaia peraltro, come ci è stato anche riferito, il parere dell'ufficio legislativo era che era diciamo incostituzionale e quindi è stato fatto presente il Consiglio, siccome è nelle prerogative del Presidente del Consiglio mettere comunque ai voti un qualcosa anche se il giudizio diciamo di costituzionalità è negativo e quindi è stato messo ben sapendo che il 99% alla fine sarebbe stato impugnato come lo è stato, semplicemente perché vai ad invadere un'altra competenza, è stato volutamente messo diciamo in votazione per creare quell'attrito, quello scontro funzionale a un periodo diciamo che viviamo e che è meramente elettorale, questo è il senso di quell'emendamento e di quello scontro, concordo con lei che sono questioni diciamo che potevano essere evitate perché tra istituzioni di diverso livello c'è il principio della leale collaborazione come sempre stato e quindi anche da questo punto di vista si poteva benissimo diciamo seguire questa strada, ma la contraddizione che io voglio fare notare è molto più stridente perché qua si vuole imporre l'esposizione di una bandiera ben sapendo che la bandiera nazionale, come scritto nell'articolo 12 della Costituzione è quella, il tricolore e quant'altro ed è regolata da leggi dello Stato dove va messa, poi si invoca la ragionevolezza e la convinzione perché la gente porta i suoi figli a vaccinare i propri figli e si reputa ingiusto una sanzione da parte dello Stato per chi non va a vaccinare, dove lì a rischio abbiamo la possibilità del contagio, di creare delle epidemie, allora lì no, deve valere la ragionevolezza e il convincimento, per creare diciamo confusione no, voglio multare le prefetture quando so che non è possibile e voglio dire quindi… È prevista una sanzione nella legge per chi non la espone, l'opposizione di Zaio sui vaccini era perché veniva reso obbligatorio la cosa, no non bisognava reso obbligatorio e si avanzava l'esperienza del Veneto che ha tolto l'obbligo per dire no in Veneto nonostante che non abbiamo più l'obbligo abbiamo un alto tasso di vaccinati eccetera, per cui questa per noi è la strada da seguire, è stato deciso attraverso un provvedimento legislativo nazionale che ci deve essere un obbligo perché anche noi purtroppo siamo soggetti a epidemie in alcuni casi per cui questo ritorno di malattie va scongiurato e come dicono gli scienziati occorre vaccinare e allora è stato fatto questo provvedimento e anche su questo va fatta chiarezza perché qua si fanno gli interessi delle case farmaceutiche o cose di questo tipo eccetera, guardate, gli interessi delle case farmaceutiche si fanno se ci sono tante malattie perché vendono tanti farmaci, il vaccino si fa una volta solo e c'è il richiamo, stop, questo è il punto per cui qua si è combattuta una battaglia ideologica semplicemente per fini mi dispiace dovermi ripetere, elettorali, però la contraddizione è questa, mentre lì volevo evitare la sanzione, quello di impedire di scrivere il bimbo a scuola eccetera, di là invece vado a sanzionare una cosa che non ha paragoni, ecco perché secondo me bisogna cambiare il registro ed ecco perché è sbagliato aver trasformato una legislatura dove si era votato un consiglio, si era votato un presidente, era stato nominato una giunta, aveva un programma e su quel programma doveva lavorare, invece di lavorare si è trasformata questa legislatura in gran parte per una legislatura elettorale, perché queste cose che si discutono con queste cose non hanno nulla a che fare con le cose vere, perché io chiederei agli amici e ai colleghi della Lega che vanno a illustrare e sostenere il referendum durante le serate in questo frangente di campagne elettorali, in questo rush finale oramai della campagna elettorale, che scrivessero nero su bianco le cose e che dovessero dire tutte le promesse che stanno facendo, che avrebbero i soldi per fare questo, che lo scrivessero e poi dopo il 23 andiamo a vedere, perché sappiamo benissimo, lo sanno anche loro che non è vero nulla di quello che dicono, che c'è un'estremizzazione delle cose, che è funzionale una loro politica, ma nessuno vieta di fare politica, quello che io stigmatizzo e che non accetto come consigliere regionale perché sono stato eletto per affrontare delle questioni è aver trasformato il ferro Fini e sostanzialmente la regione in un comitato elettorale per un referendum. Ecco, senta, l'affluenza era stata massiccia al referendum costituzionale, avevamo votato mi pare più del 60% dei vedi, come andrà stavolta? Ma io non azardo previsioni, dico solo che anche qua forzare i toni, dire che chi non va a votare e non può parlare con il Presidente, come è stato detto, per costringere la gente, una sorta di obbligare, a parte che siamo borderline con il reato, perché non si può ricattare le persone rispetto a questo, il voto è un diritto ed è un diritto anche non votare, quindi da questo punto di vista ci vuole più correttezza nei termini che si usano e più rispetto dei cittadini e degli elettori, perché anche sempre dire ma i Veneti e chi non è d'accordo fa un torto al Veneto, no, ha un'opinione diversa, perché ribaltiamo le questioni e chi sostiene il referendum ha un'opinione diversa dalla mia o di tanti altri che non sono d'accordo e quindi non dobbiamo criminalizzare nessuno, vogliamo fare un dibattito politico e democratico? Bene, entriamo nel merito delle cose e non criminalizziamo le persone per quello che dicono o per quello che pensano, invece questa campagna elettorale come purtroppo ormai ha preso la piega le campagne elettorali, si personalizzano le questioni, si criminalizza l'avversario e non si entrano nel merito delle questioni e tantomeno si approfondiscono i problemi, questo è il limite di questa campagna elettorale, perché all'indomani del 23, l'altra domanda che mi hanno fatto ieri sera era stata questa, ma cosa succede se il 23 passa e va a votare il 70-80% delle persone? Non succederà nulla, bisognerà ricominciare da dove ci si era fermati, da dove Zaia non ha voluto andare avanti e cioè sedersi al tavolo con il governo, quello che sarà il futuro governo e fare una trattativa, a vedere, ma anche qua dobbiamo discutere su che cosa noi chiediamo le materie, perché la rivendicazione del volere tutto come va Zaia non va mica bene, perché alcune cose ha ragione e avrebbe anche il nostro sostegno, su altre bisogna discutere, perché vogliamo anche questa storia dei primi Veneti o dell'insegnare il dialetto nelle scuole, ma siamo poi convinti che questa sia la linea per una riforma e per una scuola gestita dai Veneti per esempio, e cioè che noi dobbiamo invece dell'inglese insegnare il dialetto quando abbiamo 10 mila dialetti nella nostra regione, perché ogni quartiere ne ha uno suo, se non uno paese, quindi voglio dire anche queste cose che fanno parte di quel filone di leggi identitarie per alzare il livello di tensione rispetto a quello che è un confronto, uno scontro elettorale, ha portato a queste degenerazioni, ecco che allora bisogna entrare nel merito dei problemi. E ritorno alla questione, all'esempio che ho fatto prima, siamo poi convinti che i Veneti siano migliori a gestire il credito? Dopo quello che è successo direi proprio di no, perché se non interveniva lo Stato probabilmente oltre a quello che ci abbiamo rimesso, ci avrebbero rimesso molto di più i cittadini contribuenti e risparmiatori di quegli istituti di credito. Non si vota all'estero in questo caso, non arriva il voto dei Veneti che vivono in Sud America, sono in altre parti del mondo, molti si chiedono come mai, perché non è previsto il voto degli italiani all'estero? Il voto all'estero prevederebbe un'attivazione delle articolazioni dello Stato all'estero e per cui attraverso i consolati, attraverso le ambasciate in qualche modo l'organizzazione e far modo di partecipare i cittadini che poi voterebbero anche attraverso il voto per corrispondenza, presuppone comunque un impegno statuale. Questo è un referendum, un consultivo regionale, mi sembra un po' eccessivo e comunque un rammarico da poco e al di là di tutto non credo che sarebbe tale da incidere anche sugli esiti di questo referendum, anche perché gli stessi proponenti sanno benissimo che la stragrande maggioranza di chi andrà a votare voterà sì, per cui non è che dobbiamo attenderci delle sorprese rispetto all'esito elettorale, l'unica sorpresa sarà il quorum, io chiedo che la gente non si recchia a votare, ma non perché si è contro il federalismo e l'autonomia, perché bisogna contrastare una politica sprecona e inconcludente, sprecona perché uno dei soldi invece di risolvere dei problemi, inconcludente perché si perde del tempo inutilmente quando si poteva già essere in fase avanzata di una trattativa per portare a casa delle autonomie. Abbiamo ancora un paio di minuti, Azzalin, il mantra della Giunta Zaia, dei promotori del referendum è, guardate, ora o mai più, se non votiamo adesso e non cogliamo questa opportunità per far sentire la nostra voce a Roma, continueranno a calpestarci, detta in soldoni. Lei rispetto a questa ultima spiaggia qui si è arrivati, cosa dice? Sarei curioso di sapere qual è il piano B di Zaia, perché se vince, se avrà il quorum e quindi secondo le sue desiderata si siede con questo grande consenso al tavolo con Roma, pensa di risolvere tutti i problemi, quando invece sappiamo che l'Iter, che l'affluenza e la partecipazione a questo referendum e il voto non inciderà su quello che è l'approdo della trattativa, lo stabilisce proprio la Corte, ma il piano B qual è? Il piano B è se la gente non va a votare, lui dice chiude il libro, ma siamo poi convinti che non si possa più riaprire un discorso sull'autonomia nei termini prescritti dalla Costituzione? Io credo che si sia scelta una strada sbagliata per arrivare all'autonomia, credo comunque che la Regione possa in ogni caso aprire una trattativa con lo Stato, a prescindere dall'esito e dal voto referendario, partendo dai problemi concreti. Cominciamo a sederci intorno a tavolo prima a Venezia, stabilendo quelle che sono le materie su cui noi vogliamo avviare questa trattativa con lo Stato e poi sicuramente porteremo a casa dei risultati. Mettiamo da parte la propaganda, mettiamo da parte una politica che lascia troppo spazio alle urla e poco spazio ai problemi concreti che invece abbiamo davanti e che dobbiamo risolvere. Grazie molto, a Graziano Alzzalin, Consigliere regionale del Partito Democratico, noi andremo avanti con queste puntate al sabato e alla domenica, vanno in onda anche la prossima settimana, proprio dedicate al referendum per l'autonomia del 22 ottobre prossimo. Grazie molte, buon anno. Grazie a voi, grazie e arrivederci. Arrivederci, arrivederci.